Bentornati su MyFootballGersie, quella che vedete oggi è la seconda maglia della Lazio per la stagione 2022-23, quella che si è conclusa, la maglia di Ciro Immobile. Grazie a tutti. Questa maglia non è niente male, nella mia classifica tutto sommato prende 3 stelle. Mi piace molto il nero, questa sfumatura, comunque una maglia dotata di un grande fascino anche perché di un campione come Immobile. Il costo lo vedete qui sopra? Per questa maglia, non mi stancherò mai di dirlo, è veramente convenientissimo. Andate a mettere alla prova il sito. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a dare un'occhiata alle splendide offerte che ci sono. Vi ricordo, prima di lasciarvi la parte finale, che se volete avere sempre nuove recensioni lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie mille. Grazie mille.